Avvocato Paolo Mele dello studio legale Mele di Vicenza, si è appena concluso il convegno organizzato qui a Security Exhibition su emergenza rapine, comportamenti da adottare in situazioni di pericolo. Vediamo proprio anche dalla cronaca recente che l'escalation dei casi di rapina negli esercizi commerciali è in grande aumento, quindi quali i comportamenti da adottare? I comportamenti da adottare devono essere innanzitutto a carattere preventivo, sicuramente un'attività commerciale deve premonirsi di avere un sistema di videosorveglianza, questo già costituisce un deterrente, deve avere un sistema di allarme non necessariamente rumoroso ma percettibile dalle forze dell'ordine, quindi collegato con la questura o con altre unità di polizia, proprio per dargli la possibilità di intervenire prontamente nel caso di rapina. Se invece passiamo ad analizzare il residenziale? Per quanto riguarda il residenziale noi abbiamo una situazione che potrebbe in parte essere analoga perché presso numerose abitazioni ci sta un sistema di videosorveglianza, ci sta anche il collegamento, questa volta sia con la questura è possibile ma soprattutto con delle agenzie di sicurezza, quindi vigilanza o altro che non è neanche particolarmente costoso. I tempi di intervento che semmai espongono la vittima della rapina sia nell'uno che nell'altro caso ha una situazione di pericolo.